Il Dottor Zavaglia Chiamerei anche qui per le previazioni l'ingegner di Fusco Con Andil abbiamo una collaborazione ormai consolidata ma soprattutto quest'anno i muratori senior hanno svolto un intervento di carattere abbastanza sperimentale perché si tratta, dillo tu con due parole Noi stiamo facendo un progetto sul tamponamento antisismico e qui abbiamo presentato insieme a Formed il prototipo quindi il manufatto che è stato realizzato dagli allievi è proprio il prototipo di questo sistema innovativo della ricerca che stiamo facendo quindi grazie per la collaborazione Secondo me a questo tavolo devono venire anche, qualora presenti una è qui davanti a me, è un'amica presidente della scuola di Sassari anche i presidenti delle scuole perché tutto parte con un coordinamento del Formed nazionale ma tutto poi si realizza attraverso la sensibilità che le scuole a livello nazionale appunto hanno per fare le... eccola qua e farei un applauso alla presidente di Sassari mi è capito di scuola Intanto vorrei complimentarmi con chi ha curato i progetti per questa edizione di Eletrofi tutti sappiamo che l'edilizia sta attraversando è attraversato anni veramente di molto difficili e tutti auspichiamo un rilancio con un nuovo mercato dell'edilizia questi nuovi mercati sono quelli che riguardano un'edilizia ecosostenibile ed ecocompatibile così come anche un'edilizia che vada a rigenerare le periferie ebbene i temi che sono stati scelti proprio riguardano uno come diceva la dottoressa poco fa un prototipo di un muro antisismico l'Italia tutti sappiamo che è un paese a fortissimo rischio sismico oltre anche idrogeologico e quindi è emblematico già aver scelto questo tema così come anche quello un po' più tradizionale affidato ai nostri che sono usciti ora da poco dalle scuole che sono i muratori junior è quello delle panchine della red urbano che possa essere anche questo di stimolo per dare una maggior qualità della vita anche alle nostre periferie e poi c'è la presidente Francesca D'Aporto dell'università di Padova che io chiamo qui e noi siamo felici che sia una rappresentante dell'università e sta qui anche perché lei è uno dei protagonisti di questo muro antisismico quindi è venuta a vedere direttamente questa sperimentazione che idea si è fatta? un'idea molto positiva perché ho visto una pose in opera veramente buona è stato difficile quel punto di valutazione sulla qualità della pose in opera del sistema antisismico è stato difficile perché tutti l'avevano realizzato piuttosto bene quindi è un'ottima opinione del lavoro in generale e nello specifico di quello che abbiamo sviluppato dunque il SAIE quest'anno si è presentato con una formula assolutamente rinnovata voi sapete che è la 51esima edizione per cui dopo 50 edizioni diciamo dedicate ad un format di tipo tradizionale quest'anno abbiamo cercato di rinnovare i contenuti proprio nel senso che diceva l'architetto Carapella cioè in sostanza abbiamo parlato di SAIE Smart House per dare il senso di quanto sia importante recuperare il nostro patrimonio di edifici di edifici sia in senso sostenibile che di efficientemente energetico la giuria sta completando io ne approfitto per dare la parola all'amico Frisullo il secondo anno che è con noi per noi questa collaborazione con il Consiglio dei Geometri come forma del nazionale è una cosa importante allora che esperienza è stata quest'anno? Buongiorno a tutti è stata un'ottima esperienza sia per quanto riguarda l'aspetto dell'aggregazione essenzialmente di tutte quante le scuole che hanno partecipato a questa edizione ma anche e principalmente nella realizzazione quindi seguire tutti quanti questi giovani perché quest'anno abbiamo visto diversi giovani particolarmente negli juniores che hanno saputo realizzare questi manufatti progettati brillantemente dalla Presidente della giuria E ti detto, lei è la prima volta che è venuta che esperienza si è fatta? Le è piaciuta innanzitutto? Beh sì, un'esperienza molto bella ero in ottima compagnia quindi con persone che hanno già partecipato a questo evento mi hanno un po' introdotte mi hanno anche un po' insegnato a valutare a capire un po' come funzionava questa competizione è stato molto bello anche perché insomma siamo in un contesto fuori da un cantiere tradizionale quindi non capita tutti i giorni però l'impegno visto che c'era sia da parte dei giovani che sono i senior quindi è una bella esperienza Terzo premio con 70 punti lo possiamo dire da parte con la votazione unanime della giuria la coppia Emanuele Perciballi e Angelo Sordillo di Frosinone anzi di Bovilla Erdica, provincia di Frosinone l'importante è partecipare però se si riesce a poter finire qualcosa è che Bruno non c'è allora Bruno chiederei alla geometra Frosinone di premiare questi ragazzi di un comune di grande tradizione edile e un applauso di cuore anche a loro secondo premio dalla Puglia due ragazzi del quartiere San Paolo Nicola Sforzo e Pietro Moruso bravi allora li facciamo premiare c'è anche con noi il direttore Gigi Aprile sei contento? come no? contentissimo presidente Maddarese sarà contento? e adesso gli mandiamo un bel messaggino salutiamo tutti allora li facciamo premiare dal geometra Malossi della Fiera di Bologna che è un'altra delle colonne portanti della giuria target età 18 17 sono grossi ma sono giovani un applauso vincolo il primo premio Manuel Calgherotto e Giorgio Nermare del centro Andrea Palladio di Vicenza pure ieri ha vinto un trevigiano scriveteti stanno a spopolare no? che sono qui presenti con il direttore Mauro Pastore con l'istruttore anche con Lisa Maran vieni Lisa dai allora bravissimi io penso che questa premiazione tocca al presidente della giuria e poi facciamo una foto anche con con Mazza e il dottor Zavaglia insieme così per tutta allora le talche queste sono le talche e poi chiederei al dottor Zavaglia di consegnare la coppa di campioni d'Italia 2015 per la categoria junior allora terzo premio con punti 80 la squadra di Venezia Carlo Fagherazzi e Sebastiano Manente ci chiamerei qui insieme adorazio Gobesso agli istruttori e li facciamo premiare dalla presidente della giuria perché qui siamo di fronte comunque a un pezzo di Veneto che vince quindi come Università di Padua tocca ecco lì secondo premio ma giusto un'antichietta da Gangi in provincia di Palermo Salvatore Nasello Rosario Pinondo Gangi forse molti di voi lo sanno ha vinto l'anno scorso che premio il barco più bello d'Italia e allora loro sono i muratori che vengono dal barco più bello d'Italia sono emozionatissimo perché è nata come per gioco io la prima volta che sono venuto alla fiera avevo 17 anni preguntevo il quarto gioco tutto potevo pensare nella vita che un giorno potevo ritirare poter rappresentare il mio paese ritirare un premio nella fiera nazionale più importante d'Italia è una prima cosa grazie a tutti grazie a Polonia grazie a SAI grazie alla Fomento nazionale grazie a tutti allora all'ordine si chiama Formetil sotto il 42esimo parallelo si chiama La Formetil ma è così è da sempre e allora io chiamerei ovviamente per due solani che vengono i due solani della giunia a premiare la Presidente Cristina e Pippo Moscuza una dalga a testa e così premiamo questi grandi per me è un motivo estremamente di orgoglio perché io sono stato per anni a Palermo e Vice Presidente della vostra Scuola di Dita complimenti allora primi campioni d'Italia senior muratori dell'anno Massimo con l'avanzo a Domenico di Bari della scuola Puglia di poco di poco ma i migliori credo che sia una grande soddisfazione per noi noi rappresentiamo i fratelli minori di un sistema quello degli artigiani e aver vinto questa competizione è un grandissimo onore i fratelli sono tutti uguali dentro il sistema form di geometro presunno veniamo a premiare questi ragazzi dalla Puglia allora dunque io chiederei io chiederei al presidente mazza di consegnare insieme alla presidente della giuria al dottor Zavaglia la coppa di muratori dell'anno 2015 ai bravissimi Massimo domenica che vengono che vengono per la precisione da dove venite Andrea 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 e allora anche ieri c'era un grande cruista che veniva da Antria l'amico Felice Lorizzo e quindi un altro comune di grande tradizione costruttiva una foto con la presidente della giuria grazie grazie